Una scuola che si apre al territorio e dalla partecipazione dei cittadini. Una scuola e il liceo scientifico di Pagani che non si accontenta di essere istituto guido della città, ma che vuole lavorare per rendere partecipi della vita della città genitori ed allievi. Mostre, dibattiti e presentazioni di libri sono attività che la dirigente, dottoressa Felicetta Confessore, ha voluto fortemente perché è convinta che solo la frequenza della scuola da parte di alunni e genitori possa rendere la scuola e di ragazzi protagonisti della vita sociale e culturale di Pagani. È un lavoro che è stato fatto dal laboratorio artistico Spazio Bianco che si è costituito quest'anno, dove i ragazzi hanno avuto modo di riflettere su questo problema e questa criticità di Pagani relativa all'immondizia continua e che non riesce proprio a trovare uno sbocco questa soluzione. Loro hanno trovato un loro modo che è stato quello di farsi fotografare vicino ai cumuli di immondizia per far capire alle persone che loro comunque con la loro bellezza vogliono cercare in tutti i modi e di far comprendere che non è possibile vivere con l'immondizia ma hanno bisogno e hanno diritto di una realtà diversa, una realtà più consona alla loro bellezza. Venerdì 24 maggio dalle 17 alle ore 20 siete tutti invitati a venire a vedere il liceo che si fa bello, si fa bello per voi, per far sì che sia un polo di attrazione della città e anche un polo di discussione, di ricerca e di continuo stimolo per migliorare.